Buon bentornabili cinefili e presunti tali, Shin-wau-tao-i-kyo-kyo-tyo-nyo-tyo-nta, che in sudcoreano vuol dire ariechive. È fattore consolidato che il cinema coreano, dopo l'avvento delle fanfare degli Oscar per Parasite, sia diventato di dominio pubblico per tutti coloro che nemmeno sapevano che la Corea esistesse. Sebbene, per i cinefili un po' più attenti, è risaputo che il cinema coreano fosse già sulla cresta dell'onda dagli inizi di questo millennio. Vera e propria fucina di pellicole thriller e noir, di blockbuster degni di fare a gara col cinema di Hollywood e di autori quali Kim Ki-duk e Park Chan-wook, che nei primi anni 2000 diedero le prime luci del palcoscenico mondiale a questa cinematografia. Ma quanti conoscono invece questa cinematografia nel tempo in cui nessuno se la cagava? Oggi andremo dunque a intraprendere un piccolo viaggio nel cinema coreano precedente agli anni 2000, quel cinema su cui è meno facile tracciare una storiografia e in cui è meno consono muoversi tra autori troppo celati all'occhio occidentale, ma che comunque regalava già stralci di cinema meritevole di attenzione per chi volesse approfondire di più cosa c'è in questo paese oltre a Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Lee Chang-dong e Kim Ki-duk. Oggi quindi faremo un tuffo nel cinema coreano del Novecento. Oggi vi parlerò di 5 film coreani dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Uno dei film imprescindibili della cinematografia coreana del Novecento è sicuramente The Housemaid del 1960. Un melodramma torbido e un thriller psicologico che è riuscito a fare la storia del cinema del suo paese con addirittura più di un remake, l'ultimo dei quali del 2010. Il film è di una robusta consistenza nel suo crescendo suspantico e vanta una bellissima messa in scena quasi interamente da camerspearl, ovvero con un'unica ambientazione, potremmo dire da camera, con poche uscite in altri ambienti, con movimenti di macchina degni di Alfred Hitchcock e delle allusioni morbose al cinema di Louis Bunuel. Il suo epilogo porta addirittura un carico metacinematografico che potrebbe essere avanti coi tempi. Sebbene ci sia qualche forzatura, probabilmente un po' patetica e in alcune dinamiche di sceneggiatura, il film riesce a trovare un'insegna abbastanza verosimile comunque degli equilibri interessanti tra la commedia nerissima e il film melodrammatico. House Made è decisamente un film da non perdere per chi volesse conoscere i classici del cinema non solo coreano ma orientale. Ebbene, anche la Corea ha la sua piccola storia del cinema d'animazione. Il primo film d'animazione made in Corea del Sud è questo A Story of Hong Gil Dong. La storia cavalca le gesta di un personaggio storico leggendario, figlio di un ministro e di una serva, dotato di arguzia spiccata e poteri magici, usati per combattere i corrotti e aiutare i poveri, come una sorta di robinudo orientale. Di non semplice collocazione per un pubblico non coreano, questo reperto della cinematografia del paese ha un tratteggio animato piuttosto rudimentale che va però inserito in una precisa osservazione storica di riferimento come evocazione, piuttosto infantile, di una narrativa epica folcloristica. Un piacevole riscoperta inedita da noi, un ripristino d'archivio per tutti gli estimatori del cinema coreano e per tutti gli appassionati di cinematografia animata nel mondo. Woman on Fire è una sorta di remake di The Housemaid dello stesso regista. La storia racconta di una domestica che viene dalla campagna, che potremmo chiamarla Donzelletta, che viene assunta in una rispettabile casa. In parallelo, una sua amica cerca marito ma deve pagarsi da vivere come entraîneuse in un bar. La domestica, però, a Hainoi, perde il boccino per il padrone di casa e lo seduce. La situazione finirà in tragedia. Il racconto parte a ritroso con un lungo flashback iniziato sulla scena del crimine. Questo thriller smorsa le ironie del predecessore e pone maggior accento sul parallelo tra città e provincia e gioca magistralmente con luci e colori per sfumare psicologie e situazioni che talvolta sfociano nel registro grottesco. Una rilettura messa in scena sagacemente, noto anche come Declaration of Fools, dichiarazione di folli, questo film del 1983 è narrato in voce off come una sorta di filastrocca con pochissimi dialoghi risultando un curioso, curiosissimo focus sulla società coreana del tempo osservata dal punto di vista di tre disagiati. Considerato una sorta di capostipite, un film chiave di un cinema postmoderno coreano non più ancorato al realismo e dalle intenzioni di rottura con un piglio quasi sperimentale malgrado i limiti della censura che lo reputarono negativista e per cui dovette accomodarsi nella conclusione con un epilogo smussato. Declaration of Fools è un film singolare non adatto a tutti, certo forse frammentario, a tratti grottesco con una poetica satirica del disagio e di una piccola carica eversiva che lo caratterizzano in una compostezza da malinconico film slapstick. La storia vede le vicende di Dong, un tizio un po' tonto e parzialmente menomato nella camminata che vaga per le strade di Seoul. Costui sinfatoa di una studentessa la rapisce assieme all'amico tassista che lo aiuta e poi scoprono che lei in realtà è una prostituta iniziando una sorta di menage à trois che si rivela anche un fruttuoso modo per vivere assieme nella società. Tra i film più interessanti degli anni 90 in Corea spicca questo Apetal un racconto crudo che riesce a offrire uno squarcio socio-politico del paese seppur di un decennio precedente. La storia infatti è ambientata a Kwanju nel 1980. In seguito ad una rivolta studentesca sedata male dai militari una ragazza rimasta sola si ritrova a vagare per i dintorni della cittadina finché incrocia un operaio che abusa di lei finendo però presto per prendersene anche cura intanto dei ragazzi sono sulle tracce della giovane. Questo film racconta di un paese che abbandona i suoi figli quelli della classe operaia e quelli della classe studentesca un'opera che con annesso uso di flashback ci porta nelle vicissitudini di una donna oltre che di un paese a cui è stato tolto un passato ed un futuro. Un interessante ritratto che forse si aggroviglia un po' sui piani narrativi ma che espone al meglio il dolore di una vicenda con un bellissimo flashback in bianco e nero in cui viene mostrata la soppressione tragica della manifestazione studentesca e che sa chi osare in un epilogo di velata malinconia e voi conoscevate qualcuna di queste opere coreane siete di quelli che non lo conoscevano prima dell'esplosione di Parasite o lo masticavate già dai primi anni 2000 fatecelo sapere con un commento qua sotto iscrivetevi al canale mettete un like al video se vi è piaciuto e che il cinema sia con voi in coreano vuol dire starebbe e che